Marco, sto facendo un nuovo video Ciao 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 come si esce a indovare la contezionale quindi non te lo fatti come ce l'hai tu te la faccio tutta la mano della somma la somma come funziona? che ripigliate queste scelme due ok, cioè ripigliate già lavorata e ripristinata da loro però no da MAC qui, non lo voglio mettere tra i due ore e io ne ho ripristinata e ti viene dimandato che costa 100 euro 155 euro, fai tu chiamato ogni 150 euro quando non aiutare anzi che non aiutare un soldo io te lo faccio passare faccio il tempo la cosa la cosa la cosa ma pure mo se tu c'è sito c'è pure mo perciò se non è la salute mi piace ma pure se lui la dà in tempo la tete e quindi se la tete è tutto funzionante è tutto funzionante in questo caso e poi non mi chiede la tete con la data un po' viene più grande a me e poi a dopo questa cosa tu la faccio la massima di 50 euro e poi e poi la tete Roma e poi ora e poi e poi la tete e poi la tete e poi l'acqua e poi l'acqua e Tu, allora hai marcatto qua, se potremmo arrivare, io non ci interessa. Poi, se ci guarderò, te li prendi fisicamente, io ti riesco a andare a fare una cosa. C'è un po' di farlo. Una quattro slim. Provino, guarda un attimo. Qui, non scali, per me va bene, così. Per una questione, guarda. Ma, per una quattro slim, quanto ci vuoi? Allora, il problema è che... Ti sarà un buon prezzo. Noi, ti facciamo un buon prezzo. Oggi si dedica a quattro slim. Invecele lo giga. Perché? Perché qua è tutto qua. Oggi ha mille, portami di rosso più sbagliato, quindi non devi stare sempre. Se lo ci vedi, buongiorno, a questo è una cosina, e se vedi due, 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 due. Lasciate che lo fanno tutto il corso, tutte le pazze, mi ci interessa. Chi ha le sue o le tante. Ok? Se tu devi, buongiorno, se tu non ne ha lo stesso, c'è un bambino, se tu non ne ha lo stesso, se tu non ne ha lo stesso, se tu non ne ha lo stesso, se tu non ne ha lo stesso. Ok? Minusci, quant'è? Quanto sono? Però, è molto simile. Non è un bambino. Non è un bambino. Non è un bambino. un bambino. Non è un bambino. Non è un bambino, Scusate ragazzi, questo non è, questo è PS4, lo tagliamo da qui. Scusate ragazzi, questo non è.